L'avanzata delle forze anti-ISIL verso Mosul sembra rallentare, mentre Baghdad ripete che i militari turchi non dovranno entrare in città, ma Ankara rifiuta di ritirare i suoi soldati dall'area. Il Ministero della Difesa francese prevede che la battaglia per Mosul possa durare settimane o forse mesi. I peshmerga kurdi, dopo aver annunciato di essere arrivati a una quindicina di chilometri dalla città e aver occupato alcuni villaggi, si sarebbero fermati. E una tv kurda mostra civili che scappano dai bombardamenti, mentre le organizzazioni umanitarie prevedono una fuga di massa che potrebbe saturare tutti i campi profughi. Le agenzie dell'ONU si aspettano che il vero esodo cominci tra 5 o 6 giorni e che 200.000 persone possano spostarsi nelle due prime settimane. I jihadisti fanno capire di non voler mollare un video girato da loro, mostrerebbe la distruzione di un carro armato iracheno. Intanto ci si interroga su cosa accadrà dopo la possibile riconquista di Mosul e generale iracheno Fadil Jalil al-Barwari, a capo dell'unità speciale antiterrorismo, afferma in un'intervista che ci sono due corridoi già aperti per permettere ai jihadisti di fuggire verso la Siria.